A Fossombrone, come ogni anno, il secondo weekend di maggio diventa un tuffo nel rinascimento grazie alla rievocazione storica del Trionfo del Carnevale. Evento che celebra la visita del 1559 a Fossombrone del Cardinale Giulio della Rovere per festività carnevalesche fra banchetti e maschere. Quest'anno la ventiduesima edizione del Trionfo si amplia con la convergenza dell'evento alla settimana da Capitale della Cultura di Fossombrone nel progetto di Pesaro 2024 50x50 capitali al quadrato. Una rassegna ampliata per una settimana, come sottolineato nella sede di Confcommercio Marca e Nord, partner promozionale di Fossombrone fin dalla creazione degli itinerari della bellezza. In realtà è un evento nell'evento, è l'evento di avere questo privilegio in questa settimana di essere i rappresentanti di Pesaro 2024. Tutto coincide con una manifestazione che a Fossombrone è sicuramente la manifestazione più importante che racchiude un po' tutta la cittadinanza e con l'arrivo di tanti turisti ma soprattutto anche di tutte le persone che compongono questa comunità che con ansia aspettano questo grande evento. Una manifestazione cominciata lunedì e che da oggi entra nel clou di uno spettacolo unico alla presenza di 1200 figuranti in costume impegnati in cortei, balli d'epoca, acrobazie, antichi mestieri e spettacoli di fuoco fino agli stessi giochi rinascimentali che porteranno a sfidarsi 11 contrade alla conquista del Palio del Cardinale. Entriamo nel clou perché questa sera inizierà la vera e propria manifestazione del trionfo del Carnevale e partirà con la benedizione degli standardi e la sfilata rinascimentale dei quartieri. Domani sera ci saranno i giochi storici all'interno di Corso Garibaldi quindi la corsa dei birocini e la corsa col cucchiaio e poi nel weekend quindi sabato e domenica ci saranno i giochi storici che vedranno sfidarsi gli 11 quartieri partecipanti al trionfo del Carnevale per raggiudicarsi il Palio del Cardinale. La corsa all'anello decreterà il vincitore del Palio del Cardinale.